una delle cose che ho visto essere molto importanti per la mia crescita negli anni nel trading è stata quella di adottare delle strategie che io chiamo end of day end of day ovvero fine giornata che cosa significa significa che il trader va a utilizzare un metodo di analisi un metodo di controllare se ci sono delle opportunità sul mercato prevalentemente durante la fine della giornata di contrattazione di quel mercato ovviamente tu mi potresti contestare dicendo il forex che io faccio in modo abbastanza approfondito e in modo frequente non ha una vera e propria chiusura alla sera ed è vero però è anche vero che il forex le valute come un po tutti i mercati che sono correlati è correlato con per esempio l'ambiente azionario che invece una struttura di chiusura della borsa di riferimento ce l'ha quindi questo è comunque buono ed importante perché nel momento in cui io ho la chiusura della borsa americana quindi attorno alle 10 alle 22 10 di sera italiane ovviamente da quel momento e direi anche un pochino per tutta la seduta asiatica la liquidità che c'è nelle nelle valute almeno principali diminuisce parecchio e quindi questo mi porta ad avere una struttura grafica con il grafico giornaliero e quindi del land of day della fine giornata che mi indica quali sono stati i movimenti più importanti per quel tipo di mercato e sui quali io posso fare riferimento per adottare delle strategie operative o per stare fermo ovviamente io faccio anche trading sui principali indici di borsa su petrolio e oro e in tutti questi mercati faccio prevalentemente una analisi end of day che poi è quel tipo di trading che mi permette di operare con serenità e tranquillità sì infatti ho visto completamente cambiare la mia testa i miei risultati e anche la mia sicurezza sul mercato nel momento in cui ho adottato strategie end of day perché la mattina una volta che io faccio la mia analisi sui vari mercati che seguo maggiormente che sono un po più di 10 vado poi a magari trovare una opportunità quindi uno dei miei segnali di trading e una volta che lo trovo l'indomani quindi tra le 8 e 8 e mezza del mattino controllo che quel mercato abbia confermato la view il segnale che io avevo la sera prima e che mi poteva indicare una struttura rialzista o ribassista nella quale poter operare e la mattina appunto posso definire se inserire un ordine pendente solitamente quindi un ordine condizionato al fatto che il mercato arrivi a quel livello mi possa eseguire io solitamente utilizzo quasi esclusivamente ordini pendenti per fare trading e inserire il mio stop loss e il mio possibile target di profitto in quel modo vado a minimizzare perché eliminare è difficile non voglio dire che non si può ma a minimizzare notevolmente tutto l'impatto emotivo e psicologico che spesso è complice nella gestione del trade non proprio profittevole avendo una gestione end of day è praticamente una gestione dove l'emotività appunto la si lascia molto lontana perché si inserisce il proprio ordine il mattino o quando si inserisce e poi si dà spazio al mercato di muoversi quindi non si dovrebbe controllare il mercato troppo frequentemente magari il primo occhio si può dare verso sera quindi nel tardo pomeriggio per poi magari appunto attorno all'orario di chiusura di Wall Street della borsa americana capire se modificare qualcosa in quell'ordine o se lasciare tutto com'è e il giorno dopo ancora ovviamente questo è un modo di fare trading che prevede tendenzialmente un'operatività che dura da un giorno a qualche giorno quindi è un'operatività spesso multi day in questo modo però spesso si riesce a prendere dei movimenti interessanti di mercato si riesce ad avere degli stop e dei target che sono ottimali da un punto di vista proprio di tempistica nel momento in cui io voglio fare un trading che mi dia un po' più di libertà quindi che mi permetta di uscire dall'ufficio di fare anche altre cose di non dover essere per forza legato al controllare quello che sta facendo la mia operazione ma appunto libero di lasciarlo correre perché ho già impostato su dei livelli poi tecnici molto importanti qui si parla di grafico daily addirittura weekly quindi posizioni che hanno stop e target su livelli molto tecnici ma non su un grafico a 15 minuti su grafici importanti quindi livelli che spesso sono addirittura psicologici e quindi questo ecco mi permette di migliorare di molto il mio approccio al trading e il mio trading molte persone che si avvicinano al trading a volte pensano che questo modo di fare trading debba per forza avere stop in euro quindi in soldi molto larghi e quindi difficilmente affrontabili da traders che si avvicinano a questo mondo e che diciamo sono non tantissimo capitalizzati secondo me non è non è corretta questa questo questo modo di pensare perché tante volte mi succede di vedere trader magari alle prime armi o quasi che si avvicinano appunto al trading hanno pochi soldi nel conto per fare trading e dicono beh qua mettendo uno stop di 20 pips di 10 pips di 15 pips riesco a mantenere gli stop piccolini e quindi a poter farlo anche con un conto così piccolo e però poi magari fanno 7 8 10 operazioni al giorno e si trovano quindi a fine settimana aver fatto un sacco di operazioni che sono costate un sacco di commissioni e spesso hanno prodotto delle perdite il fatto invece di concentrarsi su uno due tre setup alla settimana molto interessanti da un punto di vista tecnico e lasciarli andare con uno stop ben premeditato e che magari è anche più grande ma uguale allo stop che potevano prendere su opposizioni intraday sicuramente a mio avviso fornisce un'arma in più per cercare di vincere sul mercato e di non lasciare soldi questo comunque sarà il topic anche di un prossimo video volevo lasciarvi dicendovi che per la mia esperienza e l'esperienza che ho visto a alcune persone che ho formato nel tempo con le mie coaching one to one e a cui ho cercato di trasmettere quindi la mia esperienza devo dire che la miglioria nei risultati nel momento in cui si lavora end of day c'è stata ed è stata anche molto frequente a questo punto io quindi vi saluto spero vi possa essere stato utile questo video se vi è stato utile e se vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di mettere un mi piace qui sul canale youtube e se non siete ancora iscritti di iscriversi al canale vi saluto e vi auguro un buon trading simple ciao a tutti